Ciao ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video Vi ringrazio ragazzi per questo fantastico traguardo dei 400 iscritti Vi ringrazio ogni volta per come supportate e per come stiamo crescendo Veramente grazie ragazzi Questo è lo speciale 400 iscritti Come avrete intuito dal titolo Io ovviamente non saprò parlare perché mi lascio sempre prendere dalle emozioni i dettagli E veramente ancora grazie Grazie ragazzi, veramente grazie a tutti quanti Comunque partiamo con le 5 cose che non sapete su di me O anche ce n'è una in particolare che dovete sapere assolutamente Infatti partiamo proprio da questa Marco, chi è Marco e cosa fa Marco? Dunque, Marco, mio cugino Che entra senza permesso o con il mio permesso Certe volte sul mio profilo Il più delle volte senza permesso e con le sue hack Quindi state attenti Giusto per farvi mettere contro di me Come posso spiegarvelo? Vuole farvi litigare? Vuole rovinarmi? Diciamo in un certo senso un hater Però diciamo che io lo controllo Marco non vuole stare mai sul suo profilo perché non ha Robux Ehm, vabbè Passiamo alla seconda cosa Allora, in molti me la chiedete Alessio, quanti anni hai? Allora ragazzi, anche se dalla mia voce si direbbe poco Io ho 18 anni Questa cosa me la chiedete in tanti Non so come dirvelo Non so come provarvelo Io ho 18 anni Punto Terza cosa Sono un appassionato di anime Infatti adoro molto gli anime E come me ne consigliano uno Mi precipito Tipo Bleach Me l'hanno consegnato L'ho visto L'ho vissuto E' stato qualcosa di spettacolare Ve lo consiglio a tutti Ed è stato Fantastico Quarta Cosa che non sapete su di me E' che io Certe volte Tendo a dimenticarmi Delle cose Vi faccio un esempio Ehm Gigi no scrive sotto i commenti Porta Minecraft Pocket Edition E io rispondo Certamente Da qualche mese Lo farò E' passato qualche mese Ehm Io ovviamente Me ne sono dimenticato Mi presento lì Con un altro video Che ne so Tipo di Roblox E c'è Gigi no Scusa ma avevi promesso Che avresti portato Minecraft Pocket Edition Quando lo porti Io faccio poi le scuse Mi dispiace Me ne sono dimenticato Ho avuto da fare Ma poi è la verità raga Perché io veramente C'ho spesso C'ho poco tempo Però ancora per poco Perché fra poco inizia l'estate Quinta Ed ultima cosa E non sapete su di me E che a me Piace stare veramente In tanta compagnia Soprattutto con voi Però tipo poi Quando ne diventate troppi Lì è un po' difficile Gestire la situazione C'è chi scrive Alessio di qua C'è chi scrive Alessio di là Alessio quando fai il video Alessio quando fai questo E rispondere a tutte le domande Solo che poi Appena la gente aumenta E aumenta Di mente è un po' difficile Quindi vi chiedo anche In questo video ragazzi Uno alla volta E io vi risponderò Se no poi Vi affollate tutti quanti Comunque Io direi che Per questo video è tutto Atterriamo su questo pianeta Che mi ricorda Quello di Lord Virus Ancora un po' Dettagli E Vi lascio con uno screenshot finale Mi raccomando guardatelo E questo screenshot Sarà anche come miniatura Dunque ragazzi Io vi saluto Tutti quanti Grazie ancora Per aver guardato Questo video Lo sapevo che Mi sarei imbrogliato Con le parole Prima o poi Ehm Come potete vedere Avrei voluto fare la foto Con più persone Ma poi Non ci sarebbe stato Nell'inquadratura Io vi ringrazio ragazzi E vi do appuntamento A un prossimo video Non mancheranno contenuti Speriamo bene Consigliatemi anche voi qualcosa Bella ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti